E carissimi amici, carissime amiche, buongiorno a tutti, facciamo un breve video che lancio subito, poi lo approfondiremo domani mattina. Tanto tuono che piove, avviso di garanzia notificato a Luis da Silva, svolta nel caso di Pierina Paganelli. Finalmente c'è una svolta, c'è un indagato ufficiale. Questa mattina gli uomini dell'arma hanno notificato l'avviso di garanzia a Luis da Silva e li hanno convocati in questura lui e la moglie Valeria. Ovviamente a quello che si sa, per chiedere chiaramente anche alla moglie, che però non risulta, almeno non risulta indagata, almeno per quello che si sa. Quello che si sa invece di sicuro è che Luis da Silva è ufficialmente indagato. Indagato per aver ucciso Pierina Paganelli. Questa è l'ipotesi dell'accusa con 29 coltellate. Ora vedremo meglio i dettagli. Certamente qualcosa è emerso in cerchio, in qualche modo gli inquirenti ritengono che si sia chiuso. Non a caso vi voglio ricordare che gli inquirenti avevano tante volte fatto anche delle prove con un figurante di colore di uscita e entrata dal condominio. Perché vi ricordo ci sono queste due immagini che sembrano di prendere un uomo di colore, ma questo non bastava. Evidentemente qualcosa qualcosa è cambiato. E non vorrei forse, secondo me, che tutto questo sia legato alla famosa polemica del sacco bianco con i panni insanguinati di Luis. Perché? Perché questo fatto qua è uscito negli ultimi tempi per dire vogliono incastrare Luis, vogliono incastrare Luis. Questo perché? Evidentemente perché si era saputo di qualcosa, di qualcosa di eclatante, magari, credo io, però sono supposizioni, qualcosa di eclatante legato al DNA trovato proprio nella casa, nella casa di Pierina che è sotto sequestro. Quindi, forse proprio tracce di DNA o magari di sangue, chissà, per cui ecco che questi panni insanguinati forse servivano un po' da paravento. Però non mi voglio addentrare. Vi lascio con questa notizia che è una notizia clamorosa e sicuramente ci saranno gli sviluppi. perché non voglio credere che ci si fermi lì. Cioè, l'avviso di garanzia adesso sappiamo che è per Luis da Silva. Ma non è detto che non ve ne siano altri, perché altrimenti se rimane quello e solamente quello, noi dovremmo pensare, dovremmo supporre che lui autonomamente abbia potuto fare questo per fare cosa? Per dare giustizia all'amante? Non credo proprio. Credo che ci sia adesso una reazione a Catrina. Quindi, raccoglieremo altri dati e ci risentiamo nel video di domani mattina. Oggi vi è del clamoroso. Avviso di garanzia per Luis da Silva. Seguitemi e state sempre collegati con il canale. Grazie, un abbraccio a tutti quanti voi.